Nel vostro cammino annunciate il Vangelo, dicendo è vicino il Regno dei Cieli. Guarite i malati, condate i lembrosi, rendete la vita a chi l'ha perduta. Andate per le strade in tutto il mondo, chiamate i miei amici per parte e stagio posto, non c'è solo la mia mensa. Vi è stato donato con amore gratuito, ugualmente donate con gioia e per amore. Con voi non prendete né oro né argento, perché l'operaio ha diritto al suo cibo. Andate per le strade in tutto il mondo, chiamate i miei amici per parte e stagio posto, perciò sempre alla mia mensa. Entrando in una casa donate la pace, se c'è chi vi rifiuta e non accoglie il duolo. La pace torni a voi e uscite dalla casa, scuotrendo la polvere dai vostri calzari. Andate per le strade in tutto il mondo, chiamate i miei amici per parte e stagio posto, perciò solo alla mia mensa. Ecco io vi mando agnelli in mezzo ai lupi, siate dunque avveduti come solo gli serpenti, ma liberi e chiari come le colombe dovrete sopportare prigioni e tribunali. Andate per le strade in tutto il mondo, chiamate i miei amici per fare festa, c'è un posto perciò solo alla mia mensa. Nessuno è più grande del proprio maestro, nel servo è più importante del suo padrone. Se l'hanno odiato me, odieranno anche voi, ma voi non temete, io non vi lascio soli. Andate per le strade in tutto il mondo, chiamate i miei amici per fare festa, c'è un posto per ciascuno alla mia mensa. Grazie a tutti.